di poter consegnare alla nostra amministrazione l'attestato del conseguimento del Guinness e anche di poter consegnare all'Istituto di ricerca pediatrica che è pronto risolto. Di un euro. Possiamo dire davvero che fra venerdì e sabato è nata una nuova grande città siamo diventati tutti cittadini di Città della Speranza ed è una città ideale che lavora per la ricerca, per la salute dei bambini e ha creato un tessuto di solidarietà che non c'era in precedenza sono già due anni ormai che si fanno queste manifestazioni che creano anche un grande spirito di festa e anche competitivo fra le persone e devo dire il fatto che in questo momento si possa freggiare anch'io del titolo di bi-atleti, di due volte campioni del mondo anche se è una cosa divertente, devo dire che c'è onora. Un mio amico quando abbiamo raggiunto il 4531 che ha una malattia rara, sono in 127 in giro per il mondo e quindi sa cosa significa il ruolo della ricerca mi ha mandato un sms e mi ha detto sono orgoglioso di essere padovano credo che questa sia la cosa più bella che la città si possa aspettare.